Musica Ciao ragazzi ben ritornati da PostoJoker Siamo tornati signori su un nuovo vlog Oggi ragazzi stiamo andando Grazie ad Aprilia al circuito di Misano E ragazzoni oggi cosa andiamo a fare Inoltre andiamo a fare un po' di attività Quindi sono contentissimo E ringrazio ancora Aprilia per avermi dato questa opportunità In più ragazzoni andremo a vedere appunto la gara della MotoGP Quindi parteciveremo a tante belle cosette Che vi farò vedere in questo vlog o in altri video Quindi noi stiamo intanto in viaggio in macchina Per andare a questo circuito Ragazzoni godete il video Appena arriviamo alla poi vi spieghiamo un po' di più di cose Grazie Siamo in seguito Siamo in seguito Siamo in seguito Ragazzi allora siamo arrivati al circuito Quindi stiamo aspettando che ci portano i pass per passare Perché un vigilante ha detto vai passa che mi ha riconosciuto E' emozionatissimo Mi ha detto passa tranquillo Invece un altro ha detto guarda però ci vorrebbe il pass Ma lo sa non è con cui devo passare anche perché c'è la targa e tutto quanto Però comunque siamo corretti e portiamo il pass Tra poco andiamo in circuito Vediamo un attimino quello che dobbiamo fare Mi spiegheranno bene tutto quanto il team di Aprilia Quindi non vedo lo ragazzi Sono molto emozionato Perché domani ci sono le prove e poi c'è la gara Quindi dai speriamo bene Dicevo Ci hanno dato i pass Quindi stiamo per andare Quello è il circuito di Misano raga È bellissimo Il tempo di parcheggiare ci vediamo dentro Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti